Riparte dopo lo scontro diretto di sei giorni fa la difesa del primato in classifica del potenza dall'assalto della Cavese e l'attacco al secondo posto occupato dai campani da parte del Cerignola. 25esima giornata del campionato di serie di prima delle ultime dieci puntate della stagione regolare, 30 punti in palio e 5 da recuperare dalla piazza d'onore per il giallo blu di Teore Grimaldi che proveranno a trasformare l'inevitabile delusione per il successo contro la prima della classe sfumato proprio al novantesimo in rabbia agonistica in vista dell'insidiosa trasferta di Torre del Greco si giocherà domani allo stadio Amerigo Liguori a partire dagli ore 15 sugli spalti non ci sarà spazio per i tifosi ospiti. Il Cerignola vuole ritrovare fortemente la via del successo ma occhio alle motivazioni della Turris alla ricerca di punti importanti per attirarsi fuori dall'attuale complicata situazione di classifica. Abbinamento sulla carta abbordabile per il Potenza che alle 14.30 ospita al Viviani una versa in serie positiva da quattro partite ma per nulla irresistibile la Cavese seconda forza del girone H giocherà invece in casa il derby campano con il Pomigliano Caccia a punti importanti in chiave playoff sulla Murgia l'Altamura con la novità Angelo Bencivenga in organico difensore ex Foggia e chiamato alle 14.30 a riscattare proprio lo scivodone di Aversa nella sfida casalinga contro un'altra rappresentante della campagna la frattese il Gravina mezz'ora dopo giocherà a Nardò uno scontro diretto fondamentale per le ambizioni di rientrare tra le prime cinque della classifica sarà anche l'unico a fare tutto pugliese della domenica vuole rimanerci nella griglia destinata agli spareggi invece il Taranto che ospita lo Iacovone e il Francavilla in Sinni lottano per altri obiettivi invece alto Tavogliere San Severo di scena in trasferta col Gragnano, Manfredonia e Sporting Fulgor queste ultime due sempre più distanti della salvezza dopo i recenti risultati negativi i Sipontini affronteranno al Miramare la Sarnese in una gara veramente da ultimissima spiaggia la Cenerentola del raggruppamento giocherà oggi al San Sabino di Canossa l'anticipo casalingo con il Picerno Grazie a tutti